qui alla festa nazionale della Croce Cotidiana. Fatevi sentire questo panore. Sono donne e uomini che hanno famiglia, hanno figli e che hanno dedicato veramente praticamente 24 ore su 24 è il loro tempo a costruire tutta questa casa, questa accoglienza che vi ha permesso di stare insieme questi due giorni. Credo che, come dicevano molti ieri sera dopo la prima giornata assieme, si sia sentito un senso di comunità stupendo, straordinario. Quel senso di appartenenza che secondo me è quello che ci caratterizza più di ogni altra cosa in questo percorso politico che ci avvicina alle elezioni di primavera prossima. Qui dentro abitiamo in una grande comunità dove siamo tra di noi amici e fratelli e questo è un legame, una forza che nessun altro movimento politico ha. Dobbiamo esserne fortemente consapevoli, soprattutto da quando, da domani mattina, riprenderemo le nostre sfide e i nostri impegni nelle nostre città. Saluto gli amici che partono, alcuni devono andare a prendere il treno. Un abbraccio a tutti voi. Piemonte, se mi sembra, se non sbaglio. Grazie. Abbiamo il dovere di portare nei cuori questa appartenenza, che è il valore unico che ci caratterizza in questo momento. L'ideale, se non è incarnato dentro un rapporto con una persona che ti è prossima, è solo un bel discorso. Non rimane niente poi nel giorno dopo quando ti alzi, quando ti svegli la mattina. bisogna che questi volti che avete incontrato in queste due giorni diventino sempre più prossimi e familiari a voi nel cammino che farete, perché sarà un cammino, e ve lo dice uno che lo provo ogni giorno, di grande solitudine. perché davanti alle sfide che avete nel vostro quotidiano, al lavoro, nel costruire i vostri circoli territoriali, coloro che verranno a colpirvi, colpiranno voi, non un altro. E davanti a quella ferita che troverete, che incontrerete, sarete soli. Ma nell'istante in cui vi ricorderete quella comunità che vi ha abbracciato, che vi ha guardato per quello che siete, che vi ha voluto bene per quello che siete e non solo per quello che fate, potete comprendere che il popolo della famiglia è qualcosa di più grande che un partito politico. Il popolo della famiglia è quello che è stata Solidarnosc, è quello che è stata Carta 77, ovvero un grande movimento di liberazione nazionale da un impianto ideologico violento che vuole distruggere questi legami, che noi chiamiamo famiglia. Live ovviamente ci sono alcuni cambiamenti che adesso vedremo. Vado avanti nel dire quello che stavo dicendo, questo è il passaggio decisivo per quello che abbiamo fatto tutta questa fatica amici e per quello che stiamo aprendo questa fase finale che ci avvicina alle elezioni politiche con coraggio. L'abbiamo detto aprendo la festa nazionale ieri pomeriggio, siamo la terza via tra due modi di pensare politica diametralmente opposti secondo la logica dei mass media ma uniti nel modo di proporsi politicamente. Da una parte chi pensa che l'uomo deve essere sottoposto alle logiche del mercato che debbano dominare e dall'altra parte da movimenti politici che pensano che lo Stato debba ritornare dominante sulla persona. Queste due logiche sono perdenti, sono sempre state perdenti nella storia e noi pensiamo che l'unica modalità per sconfiggerle sia quella del personalismo cristiano. Rimettere al centro la persona, la comunità, la famiglia per far sì che rimetta al centro alla dinamica della storia quel soggetto che sempre, che da sempre ha fatto la storia. Per questo amici oggi vi chiedo e concludo il mio saluto che ripeto vuole essere short al massimo proprio perché siamo in tanti a intervenire, vi chiedo appunto di tornare nei vostri territori declinando quelli che sono i punti che abbiamo trattato nelle tavole rotonde. Non andate a casa solamente con l'Instagram della foto con i relatori o con la bella immaginetta che ci siamo portati a casa da questi due giorni. Fate sì che coloro che hanno parlato oggi diventino persone prossime a voi in incontri che organizzate nei vostri territori. Fate sì che i dibattiti che abbiamo fatto in questi giorni, davvero ricchi di contenuti e di proposte concrete da portare nei vostri territori, diventino oggetto di dibattito a casa vostra. Fate sì che sui quotidiani, in nome popolo della famiglia, ogni giorno riecheggi con proposte e contenuti concreti. Molti circoli già lo fanno, ogni santissimo giorno, e stiamo rompendo quel muro di omertà e silenzio che purtroppo la stampa, soprattutto a livello nazionale, tante volte fa salire verso di noi. Questo è il lavoro prioritario con cui ci vogliamo salutare oggi, affinché appunto possiamo portare avanti questo grande cammino di impegno e di responsabilità ovunque siamo chiamati a farlo. Prima di dare la parola a un video di saluto che alcuni amici hanno realizzato e prima in particolar modo di salutare la particolare splendida comunità di Riolo Terme, gli amici di Riolo Terme, a cui vorrei rivolgere un grande applauso, compresi tutti gli omigliano romagnoni, tutti gli amici della Croce Quotidiano, gli amici della PDF TV, gli amici di tutte le varie realtà locali e regionali che hanno partecipato a questa due giorni. voglio chiamare qui sul palco, e cambio naturalmente il programma, ma Torrini mi conosce, ha vissuto la campagna elettorale con me, quindi ogni occasione di modifica per me è preziosa, per chiamare una persona che lavora sempre nell'ombra, ma una persona che ha sempre dato un grande contributo a questo cammino insieme e che voglio ringraziare con questo momento che chiamo qui a fianco a me. Nicola Di Matteo, coordinatore nazionale del Popolo della Famiglia. Voglio dire questa cosa in questo modo, il Popolo della Famiglia è fatto di persone che si vogliono bene e su questo palco, ricordatevi, unica foto, questo abbraccio tra amici, perché questa è la nostra forza. Nicola, ti ha la parola. Grazie a tutti. Ecco, veramente Mirko ha messo tanti impegni e tant'amore, sono molto onorato innanzitutto di questa amicizia che ci lega profundamente, veramente mi emoziono, perché si vede una persona, una persona leale, un fratello, un amico che sta mettendo questo a servizio di tutti noi, a servizio di questo popolo, a servizio del percorso che abbiamo iniziato con Maria Di Nolfi e Gianfranco Amato per il cambiamento di questo paese, di questa città, per il cambiamento che dobbiamo portare da oggi a tutti questi giorni. Amici, ma quanto è vero che esiste il nostro Signore Gesù Cristo. O ci sarà il popolo della famiglia o non so cosa succederà domani a questa società. i nostri figli sono padri di due bambini e sapete il mio intervento l'11 marzo 2016 che è nato questo popolo, il popolo della famiglia, Giosuè. E da lì, se oggi non ci attiviamo, passerà tutto, passerà tutto, passerà tutto, se ci sarà un'altra classe politica che governerà questo paese e il mio figlio se passerà questa dolce morte. Oggi Giosuè non era con me e non era con noi e non era con voi e grazie a Dio voi lo conoscete, sta bene e io ringrazio voi, ringrazio tutti e in particolare l'amico Maria Di Nolfi che ancora una volta, io dicevo ieri è stato un pazzo con la Croce Cotidiano ed è stato un pazzo con l'amore, sta mettendo sacrificio e dedizione e girando l'Italia, rinizierà a girare l'Italia per costruire il popolo della famiglia in realtà in possibilità e in amore, dandoci quello che abbiamo bisogno, la lealtà, l'onestà, la legalità. Grazie amici, viva il popolo della famiglia, viva tutti noi, viva voi e insieme cambiamo la sorte di questo paese, grazie. Andiamo con la sorpresa e poi riprendiamo. Spegniamo le luci in sala. Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a 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 tutti. e tutti. tutti i nostri fratelli. Grazie a tutti. 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 perché a tutti. fanno una vita.